Salve ragazzi, come andiamo? Ti bene? Casa, lavoro, famiglia, continuo a mangiare altro carino pure. Ricomino qui, dopo tanti giorni, mesi, e non posso dire niente. Questi mesi succede tante cose, bene e brutte. La più brutta che è successo è che mi è mancato il pappagazzino. Vale, tre mesi fa. Grato perché ho dieci anni, ho morto di vecchiaia. Poi altre cose che sono successe. Niente di speciale. Stiamo andando avanti. Stiamo andando avanti, e boh, voi cosa mi dite? Non so quanti, quanti follower ho, però ho già, ho di nuovo perso il conto. Per secondo, che youtuber ogni tanto ha quella maniera di cambiare tutto il procedimento. Quindi, vatteno a ricontrollare cosa c'è e cosa non c'è. Addirittura, sto vedendo anche tutto, che è tutto nuovo. Tutto fatto, quindi, avevo in mezzo intenziale di toglierlo o di fare solo video, perché non lo uso tanto. Adesso da tik tok, instagram, facebook, whatsapp, più le cose che ho fuori non riesco a stare dietro. Sono tornato anche perché sono tornato con il mio computer fisso, che diciamo l'ho vinto, l'ho vinto estratto a sorte da dove lavoro. E' un bel computerino, anche se ha i suoi anni, che questo computer ha già fatto la sua vita, diciamo, tramite qualche impiegato che ce l'aveva. Poi lo dismessono, perché loro si aggiornano con i computer, e questi computer che dismessono vanno messi a collaborazione dei dipendenti. che tramite mail, che tramite mail, ti prenoti, con tante email, vengono assolte, che ho due, e sono stato assolteggiato dall'azienda. e ho preso questo computer qui. E pensavo peggio, pensavo peggio, perché dagli anni che ha, da come li usano. Pensavo che invece no, è un bel computerino, bello, bello ancora funzionante, anche se ha delle magagne. ovvio, ho dieci anni di computer, non potevo pretendermi quello che, però, pensavo peggio, diciamo, pensavo peggio. Diciamo, quando mi lascia, mi lascia, non posso dire niente di niente. Siamo tornati, diciamo, al vecchio sistema. Questo... Sto guardando sempre di pigamuzzo, così, senza parole. Cosa posso dire? Niente. Siamo tornati, diciamo, al vecchio sistema. E questo... Beh, ogni tanto, è sempre meglio ritornare ai sistemi che per rinnovare. Che se uno rinnova, poi... Come si dice? Se vengi la strada vecchia... Come già la strada vecchia per quella nuova, non so... Non so cosa si trova. Ma comunque, la cosa devo dire. Comunque. Tanti mi dicono... C'è gente che mi dice che non capisce di quello che dico. Io gli posso anche rispondere, ma... Guarda, io per forza guardarmi. Se non capisci... Cambia canale. Guardati qualcos'altro. Io sono fatto così. Ho creato questo canale apposta per dire quello che mi sento. Se mi capite bene. Se no... Non li spiego. Perché non li spiego. Va. Allora... Boh... Tutto questo... Tutto questo... Vabbè ragazzi. Sono solo venuto qui per dirvi queste cose qui. E che ogni tanto non vi prometto ci sono e non ci sono. No... Ok... Buongiorno. Fatti i blocchi mi raccomando. No...